Il nostro reparto ha visto una notevole crescita in termini di spazi, in termini di logistica e in termini di numeri di donne assistite. Abbiamo mantenuto fede a quella che è la nostra idea di parto, cioè quello di garantire un evento il più possibile fisiologico, il mantenimento di un ambiente il più possibile confortevole, caldo, popolato da persone che assistono, non interferiscono con un evento che è di questo nucleo che nel nostro reparto vediamo crescere e trasformarsi in famiglia. L'accoglienza presso questo ospedale viene fatta direttamente presso il nostro pronto soccorso, che è situato all'ingresso 2, al primo piano. Nel momento in cui verrete inserite in triage, verranno fatti tutti gli accertamenti necessari, tra cui anche il monitoraggio cardiotocografico. Il nostro blocco parto prevede quattro stanze, travaglio-parto, dove è possibile sia fare tutta la parte del travaglio che il parto. Una di queste è anche adibita a sala, parto, travaglio in acqua. Inoltre, sempre sul piano, adiacente, c'è una sala operatoria, qualora ci fosse la necessità di dover espletare un taglio cesareo in urgenza. Una donna che viene a parturire a Pederzoli ha possibilità di soffrire di queste cose, clampaglio tardivo del cordone, contatto per la pelle, rumini, profilassi neonatali, scrini neonatali, ambulatori dell'allattamento, ambulatori post-dimissione, in cui vediamo il neonato in ospedale, ambulatori dell'allattamento ostetrico, sempre post-dimissione. Le mamme che decideranno di scegliere la nostra struttura come luogo dove essere assistiti per la loro gravidanza e per il loro parto, troveranno un ambiente accogliente, confortevole. Ci teniamo a far sì che il vostro evento possa rappresentare un evento unico all'interno del vostro percorso di crescita familiare.